Peccato! Da dove, sopra tutto? Oh, guarda la domanda! Rega, attenzione, stanno un cecchino! Preso! A terra! Già, arrivano dei missili, non ce l'ho ad ora! C'è una cosa che...vola! Sta arrivando un missile, un giavelin, un giavelin! Ma dov'è? Ma chi è? Ragazzi, un giavelin! Ma che tizio, lo vedo! Guardate, guardate! Chi è quel pazzo? Beh, vabbè! Top! E quello si è fatto già due kill, così! Vabbè, io me ne ho... Ne ha tirato un altro! Si è spunta di nuovo! Ora comincia ad avere paura! Oddio, sta arrivando! Si può sparare il missile? Oh, Gesù! A te, Daniel! Infatti! Fermo di moragia! Questo tizio è uno sparione! Scappo, scappo! No! Ne ha tirato già un altro! Quanti sono? Ragazzi, ma io non li vedo! No! Io sto provando a spararmi, colpi! Dai, è un genio, sto ragazzo! No, ma non lo vedo più neanche! Ah, lo vedo! Sta là! Dove? Finca, finca! No, l'ho mancato! Per me che ne sta arrivando un altro, immagino! Sta là, ma non lo vedo più! Ah, l'ho preso! L'ho colpito, colpito! Ma che facciamo agli altri soldi? Compriamo un'altra di queste casse e mettiamo tutti la classe con fantasma! Vedi? Guarda! Ora sappiamo che la safe è lì! Ci siete? Vai! Attivatelo! Ok, uno a terra! L'altro era qui, non so dove si è andato! Oh! Quell'altro! Stanno attraversando il ponte! Oh, ecco! A terra! A terra! Bello! Quello che si sta autorianimando è andato! Ce n'è un altro nel tunnel! Si sta autorianimando pure lui! Aspettalo! Porca! No, raga! Ma le biciure! Ciao! Sì! Ah ma era l'ultimo! Parola! Uff